Bene, ti hanno scelto per fare da tutor didattico in un corso, in un laboratorio o a un piccolo gruppo di studenti. Sarai contento e forse anche un po' emozionato, ma man mano che si avvicina al momento un po' incomincia a preoccuparti. Come sarà il rapporto con gli studenti? Sarò in grado di aiutarli? Se avrò qualche problema, come lo dovrò affrontare? Non preoccuparti, con poche indicazioni e qualche piccolo accorgimento sarai in grado perfettamente di affrontare la sfida. La prima cosa da fare è avere chiaro il contesto nel quale ti muoverai, con che figure dovrai interagire per gli aspetti didattici, per quelli organizzativi e per quelli burocratici, quali vincoli avrai e una volta che avrai preso confidenza col contesto potrai concentrare proprio sul tuo ruolo, sugli aspetti didattici. Il tuo compito sarà creare le condizioni per supportare il più possibile l'apprendimento dei tuoi studenti, mettendo in campo processi di feedback costanti e supportivi. Non sai come fare? Non vuoi dimenticarti nulla di essenziale? Tranquillo, ti aiutiamo noi!